Salve a tutti, in questo video vi mostrerò come non funziona questa bellissima piastra della Denon ha tre testine modello DRS810 perché appunto ha dei difetti di funzionamento che adesso vi faccio vedere innanzitutto è una piastra a carico orizzontale, ha il cassettino come se fosse un lettore cd si apre, si inserisce la cassetta, si richiude qui ci sarebbe lo stabilizzatore per tenere la ferma ma io l'ho tolto per mostrare la rotazione e le testine allora, premendo play il timer parte, qui inizia a girare ma dopo appena 8 secondi o 9 secondi si stacca da sola senza che venga riprodotto alcun suono quindi la rotazione c'è, la testina si solleva, va a toccare il nastro ma non c'è alcun suono qui anche se siamo all'inizio della cassetta io ho provato svariate volte anche andando più avanti perché, come vedete, va anche avanti veloce, il nastro gira correttamente quindi il meccanismo funziona abbastanza bene non stop, play il nastro sta girando ma i vuometri non si muovono e non c'è alcun suono l'indietro va anche correttamente e alla fine l'autostop funziona pure riproviamo col play come vedete, 8 secondi e si stacca davvero un peccato perché è una bellissima macchina quindi spero vada in mani competenti che riescono a farla funzionare di nuovo come funzionava prima altro difetto da segnalare, lo sportellino qui, che si chiude, non si blocca c'è praticamente la molla qui sotto se ho riuscito a vederla non riesce a bloccare lo sportellino infatti anche se arriva in fondo lasciandolo si riapre tutto qua esteticamente comunque è messa molto bene a parte qualche piccolo segnetto ma niente di degno di nota buona asta a tutti e grazie